Pronti per un nuovo appuntamento milionario? È il momento dell'estrazione di Eurojackpot. Benvenuti all'appuntamento con l'estrazione di Eurojackpot. La Polonia e il turismo sostenibile sono i protagonisti dell'approfondimento di questa sera. Breslavia in particolare è una città attenta a questo approccio. Famosa per le sue aree verdi, Breslavia conta addirittura 44 meravigliosi parchi. Il modo migliore per visitarla, tuttavia, è fare una gita in barca a lungo i numerosi corsi d'acqua. Si sviluppa infatti su 12 isole separate da una rete di fiumi e collegate da centinaia di ponti, tanto da essere definita la Venezia polacca. Una meta tutta da scoprire, magari dopo aver indovinato la combinazione vincente. Il jackpot questa sera vale 62 milioni di euro. Siete pronti a scoprire la combinazione vincente? Diamo il via all'estrazione direttamente dalla sala delle urne. La prima urna elettronica è attiva. Le 50 sfere numerate vengono mescolate e sono ora pronte per essere estratte. L'attesa è finita. Il primo numero di questa sera viene estratto ora. Il primo numero è 4. Ecco il secondo numero di questa sera. Il secondo estratto è il numero 20. Siamo ora al terzo estratto ed è il numero 11. Quarto numero di questa estrazione. Eccolo, è il numero 10. Quinta sfera. Pronti a scoprirla? Con i due euronumeri potrebbe assegnare vincite milionarie questa sera. Il quinto numero estratto è 22. Passiamo ora all'estrazione dei due euronumeri. Il jackpot milionario potrebbe essere assegnato tra poco. Abbiamo il primo euronumero della nuova combinazione vincente di Eurojackpot. È il numero 10. Ultima sfera estratta per questa sera. Siete pronti alla possibile assegnazione del jackpot? Ecco il secondo euronumero. Sette. Controlliamo ora la combinazione vincente. Quattro. Dieci. Undici. Venti. Ventidue. I due euronumeri sono... Sette. E... Dieci. Vediamo insieme i risultati di questo concorso e le quote di tutte le categorie di vincita. Con grande piacere vi annuncio che questa sera è stato vinto il jackpot in Europa. Anche in Italia i giocatori sono stati premiati con tante vincite straordinarie. Continuate a seguire i nostri canali per sapere dove sono state realizzate. La caccia al jackpot milionario prosegue martedì prossimo. Il jackpot in palio sarà pari a... Dieci milioni di euro. Per aggiudicarsi la cifra stellare del nostro jackpot bastano soli due euro. Siete pronti a giocare i vostri numeri preferiti? Noi vi ringraziamo per averci seguiti e vi aspettiamo martedì prossimo con una nuova estrazione. A prestissimo! Grazie a tutti!